Sì, accogliamo oggi la seconda conferenza di velocità. È evidente che il tema che stiamo trattando è quello del bike sharing ed è un tema caro a moltissime città europee e alla città di Roma. Andiamo a confrontarci con città nelle quali questo fenomeno è già presente da anni. Cerchiamo di introdurre le buone pratiche. Abbiamo peraltro approvato adesso il PRIP, che è il piano di riorganizzazione degli impianti pubblicitari che servirà proprio per dare nuova linfa al bike sharing. Parliamo di bike sharing a flusso libero per portarlo anche nelle periferie di Roma e parliamo chiaramente di un cambiamento culturale che consente ai cittadini di iniziare a considerare la bicicletta un vero e proprio mezzo di spostamento. Chiaramente tutto questo accompagnato da piste e corsie ciclabili per facilitare questi spostamenti.